In Grau è il primo presidente della Camera non democristiano e comunista che da democristiana cattolica, diciamo più che democristiana da cattolica comunque sempre con una certa sensibilità politica e comunque sempre anche io nella mia disobbedienza ho sempre votato di C, quindi insomma non ci tengo a sottolineare anche questo, è che una figura che destava, il mio primo interrogativo ricordo che fu quello ma se è stata scelta questa persona vuol dire che ha il senso delle istituzioni.